Giovanni Speranza, prima partita al Baianteo, ho entrato nella seconda parte della fazione del gioco, le tue impressioni su questi tuoi 20-25 minuti? Secondo me potevo fare meglio, è stata una partita difficile, come si sapeva, contro la Pro Sesto, sono entrato già la settimana scorsa contro il Padua, sono stati due partiti difficili, comunque ho cercato di dare il mio meglio, anche se non era facile. Quali sono le tue caratteristiche peculiari di gioco? Io sono uno che salta l'uomo, ha un bel tiro, veloce, difensivamente non è proprio il mio forte, però c'è il quartista. E quanti gol hai fatto in carriera? Ah, non mi ricordo, l'ho fatto assai quando ero giovane, primavera al Berretti, poi l'anno scorso ho fatto pochi gol perché ho giocato centrocampo un po' più di copertura e due anni fa ho fatto 12 gol a Francoforte in C1. Ci racconti velocemente, molto velocemente e rapidamente i motivi per cui tu hai cominciato a giocare in Germania e la tua carriera come si è svolta? Sì, i miei genitori dall'età di 18 anni, penso mio padre, si è trasferito in Germania, io sono nato lì, ho cominciato a giocare a Francoforte, ho cominciato a giocare 5 anni in Germania, ho fatto 240 gol da piccolo e poi mi è voluto il Francoforte e ho giocato tutte le giovanile del Francoforte. Un'altra cosa, come ti trovi a Monza? No, benissimo, benissimo, pensavo più difficile, però il calcio è completamente differente, è più tattico, in Germania è meno tattica, in Bulgaria è tutto più tattico, più difficile. Benissimo. Benissimo. Benissimo.